Buongiorno ragazzi, in questo video iniziamo a parlare di algebra e introduciamo il primo concetto, cioè quello dei monomi. L'idea è che un monomio sarà un'espressione algebrica di questo tipo, ad esempio meno 3ax alla terza y alla seconda. Un monomio è quindi un'espressione algebrica scritta come il prodotto di una parte numerica, nel nostro esempio questo meno 3, e di una parte letterale, nel nostro esempio ax alla terza y alla seconda, cioè il prodotto di lettere elevate con determinati esponenti naturali, nel nostro caso 1, 3 e 2. L'idea è che ciascuna lettera rappresenta un numero, un numero che però è incognito. Diremo inoltre che il grado del monomio è la somma degli esponenti che compaiono nella parte letterale. Nel nostro esempio è 6, infatti vedete a elevato alla 1, x alla 3, y alla 2. 1 più 3 più 2 mi dà ovviamente 6, il grado di questo polinomio. Cerchiamo ora di studiare quali sono e come si fanno le operazioni tra i monomi, partendo dalla somma e, se volete, dalla sottrazione. L'idea è che la somma algebrica di due o più monomi non è scontato che mi dia un monomio, anzi, in generale mi dà quello che si chiama un polinomio. Ad esempio, meno 3ax alla terza y alla seconda più 5xy è un polinomio, in cui io non posso sommare queste due parti letterali, che vedete sono diverse tra loro. Però, se le parti letterali dei due monomi che sto andando a sommare sono le stesse, i monomi si dicono simili e la loro somma è effettivamente un monomio. Ad esempio, vedete, se prendo il nostro classico esempio, meno 3ax alla terza y quadro e lo vado a sommare a 5ax alla terza y alla seconda, ritrovo esattamente la stessa parte letterale. E quindi, sommando le due parti numeriche, meno 3 più 5, ottengo 2, ovviamente per ax alla terza y alla seconda. Vediamo ora il prodotto. Il prodotto tra due o più monomi, invece, è sempre un monomio. E si va a svolgere in questo modo. Si devono andare a moltiplicare tra loro le parti numeriche e anche le parti letterali. Per moltiplicare queste, dobbiamo semplicemente andare a sommare gli esponenti delle stesse lettere. Ad esempio, se facciamo meno 3ax alla terza y alla seconda per 5x quadro y alla 4, farò meno 3 per 5, che mi dà questo meno 15. Poi, vedete, riporto tutte le lettere a xy andando a considerare questa somma degli esponenti. Quindi la a mi compare solo una volta e l'ho riscritta. La x, qui abbiamo un x alla 3 e qui un x alla 2, quindi faccio 3 più 2 e trovo questo esponente 5, x alla 5. In maniera simile, y alla seconda per y alla 4, farò 2 più 4 e ritrovo questo y alla 6. In maniera del tutto analoga funziona l'elevamento a potenza. Cioè, l'elevamento a potenza di un monomio è sempre un monomio che ottengo in maniera simile a quella del prodotto. Quindi dobbiamo andare ad elevare alla potenza sia la parte numerica che la parte letterale, in cui ovviamente andremo a moltiplicare gli esponenti per l'esponente della potenza che stiamo svolgendo. Facciamo un esempio per capire. Meno 3 a x alla terza, y alla seconda, tutto elevato alla 3. Allora vado a fare l'elevamento a potenza di ciascuno di questi fattori. Quindi vedete, il meno 3 alla terza mi dà il meno 27. a alla terza, quindi sarebbe un a alla 1 per 3, trovo a alla 3. x alla terza, tutto alla 3. Vado a moltiplicare tra loro gli esponenti, quindi trovo un x alla 9. E infine, y alla 2, tutto alla terza, mi darà questo y alla 6. Mi raccomando che questo procedimento è valido perché, come dicevamo, il monomio è proprio il prodotto di queste lettere e questa parte numerica. Infine andiamo a cercare di capire come funziona la divisione. Intanto intuiamo subito che se la parte letterale del divisore è formata da lettere che compaiono anche al dividendo, con esponenti minori o uguali a quelli del dividendo, allora il risultato della divisione sarà un monomio. Cerchiamo di capire meglio quanto appena detto. Un esempio di questo tipo, meno 3ax alla terza e y alla seconda, diviso meno 2x quadro y, è un rapporto, una divisione fra due monomi che mi dà un monomio. Perché? Guardiamo la parte letterale del divisore, x quadro y. È composto da due lettere x y che ritroviamo anche nel dividendo. E questi esponenti 2 e 1 sono rispettivamente più piccoli degli esponenti delle stesse lettere x y che troviamo nel dividendo. Quindi posso andare a fare la divisione in maniera analoga a quella che abbiamo fatto nel caso del prodotto. E quindi vado a dividere la parte numerica, meno 3, diviso questa parte numerica, meno 2, e ottengo chiaramente tre mezzi. Dopodiché ax alla terza e y alla seconda diviso questo x quadro y. Riporto le lettere, vedete, ax y con gli esponenti ottenuti tramite una sottrazione. La compare al dividendo ma non al divisore, quindi la riscrivo. Questo x alla 3 diviso un x alla 2, faccio 3 meno 2 e ottengo x alla 1, questa x. Infine y alla 2 diviso y farò un 2 meno 1 che mi dà questa y. Il risultato quindi di questo rapporto, di questa divisione tra i due monomi è tre mezzi a x y. E come vi dicevo, osserviamo che in questo caso il rapporto dei due monomi è un monomio. Questa cosa però non è scontata. Anzi, in generale, la divisione tra due monomi può darci una frazione algebrica. Questo succede nel caso in cui quelle osservazioni che avevamo fatto sulle parti letterali non siano valide. Ad esempio, se faccio meno 3ax alla terza y alla seconda diviso meno 2x quadro y z quadro, vedete, rispetto all'esempio di prima ho aggiunto questo z alla seconda, non ritrovo tutte le lettere del divisore anche nel dividendo, proprio a causa della presenza di questa z. Il risultato non è quindi un monomio, ma quella che si chiama frazione algebrica. Vedete? Sono andato a svolgere i conti in maniera simile a prima. La parte numerica meno 3 fratto al meno 2 mi dà questo tre mezzi. La parte letterale ax alla terza y alla seconda diviso questo x quadro y mi dà ax y, però la presenza di questo z quadro nel divisore va riportata qui, in questo denominatore. Quello che abbiamo trovato è quindi proprio una frazione algebrica. Si chiama così perché, vedete, c'è una parte letterale anche nel denominatore. L'idea, quindi, è che non sempre la divisione fra monomi mi dà un monomio. Questa non è una cosa troppo sorprendente. Se pensate a quello che succede nei numeri naturali e nei numeri interi, abbiamo un discorso del tutto analogo. Quando io vado a fare, ad esempio, 5 diviso 2, sto facendo il rapporto fra due numeri naturali, ma al risultato 5 mezzi è un numero razionale, non è un numero intero o naturale. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia aiutato a capire il concetto di monomio e come andare a svolgere le operazioni con i monomi. Continuate a seguire i video che trovate su questo canale e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. A presto!